L'eredità dello zio Calogero L'eredità dello zio Calogero, l'eredità dello zio Buonanima L'eredità dello zio Calogero, l'eredità dello zio Buonanima L'eredità dello zio Buonanima L'eredità dello zio Buonanima L'apocalisse, le metagliatrici facevano tan 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 tanran I cannoni bom 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 Tu mi segui ? Si, io che ti seguo. Come facevano le mitragliatrici ? ...le mitragliatrici facevano... E i canoni ? Bum, bum, bravo ! Bravo, bravo ! Quello si sta aggiustando due uova nel piatto ! E' bravo ! Si porta spasso la gallina dalle uova d'oro ! Deve finire con tutto questo leccamento ! Ma con chi ce l'hai ? Con l'amatissimo fratello Franco ce l'ho ! Santa Rosalia, veneriscetelo voi ! Tuo zio è un debole per quel nipote ! E sfido io ! Gli sta sempre a leccare il 23 rocco ! La mattina la passeggiata ! La sera la benedizione ! Tutto il giorno ha i suoi comandi ! E magari la notte ! Passa la telefonata ! Sei precipitare della scala ! La parola un fulmer ! Chi sa degnitare ? E questo vero uomo è ! Un uomo ! Non deve vivere sperando nell'eredità dello zio ! E riprende ancora l'assedio olandese alla nostra porta ! Il cross questa volta viene dalla sinistra ! L'ha effettuato Rep ! Il colpo di testa è di Orlandini ! Spiove la palla sui piedi di Cruif ! Guarda che se non ti fai aumentare lo stipendio al bancolotto ! Qui finisce male ! E se non fai il salumiere io non posso più là davanti ! Passa dietro ! La strada dietro ci sta il fuzzimentolo ! E' solo tre mesi che non lo paghiamo ! C'è un assedio sotto la nostra porta ! Un assedio ! Hai detto bene ! I sentitori non l'assettano più ! Il macellai si è imbestialito e è diventato un toro ! Ma perché non passa al portiere ? C'è passato ! C'è passato ! Vero ? Solo che non ha trova di soldi ! Allora è venuto su e ha fatto la bella scenata ! Ha fatto bene ! Bravo ! Ha fatto bene ! Bravo ! Ma che dici ? Con sta partita ! Ma come io ti parlo di cose serie ! Di cose di casa nostra ! E tu non senti ? Ma io quando vado la partita non sento nessuno ! Ma non ! Ma non ! Stiavolo ! Colpe di testa di Cruif ! Ed è gol ! Gol ! Gol ! Ma che scopio dici ? Non vedi che il segnale non è la nostra porta ! E' la colpe tua ! E' la bandesciata di tua madre ! Adesso vedo ! Papà ci sei per lo zio Calogero ? No ! E come ? Come ? Cretina ! Per lo zio Calogero ! Ci sono sempre ! Presente ! Però l'arbitro concede un calcio di punizione in favore degli olandesi ! Presente ! No ! Sono Antonia ! Vostro zio non riesce a dormire ! Dice ! Se potete venire a leggerci il giornale ! E' questa la maniera di bussare ! E' così lo svegliate ! Ma perché non era sveglio ? Si ! Era sveglio e si è addormentato ! E' questa la maniera di bussare ! Ah ! Ci hai portato l'ombrello ! Bravo ! Non lo sai quanto è geloso della roba sua ! E' gelosissimo ! E' come ? Solo che mi permette met forgotten ! E' Ord czarta ! E' a maniera di pelvisa ! E' un portatore ! E' un portatore ! E' un portatore ! E' un portatore ! E' il portatore ! E' altri portatore ! Sti schifini di quadri tu li vendi? Io che non li vendo? Magari non li compra nessuno. Ma che dimenticasti che ho fatto il corso da naif a Bari, tre anni? E poi io lavoro per l'arte. A mia i piccioli non interessano. E bravo l'artista! Perciò a te dell'eredità dello zio Calogero non te ne importa niente, è vero? E se dovesse lasciare tutta la proprietà allo sciamato fratello Francuzzo, tu che fai? Non dici manco una parola. E che c'è da dire parole? I piccioli sono i suoi e li lascia a chi le pare. No, caro mio! Non è giusto! Tre fratelli siamo! Due fratelli e una sorella. Sempre fratelli siamo! E la proprietà, i beni di famiglia, devono essere divisi in tre parti uguali. Franco ha più bisogno. Tiene moglie, due figlie, la cognata a carico. E poi al botteghino dell'otto gli danno una paga di fame. Ha parlato una stessa, ha parlato. Io non mi lamento. Io con la pensioncina da mutilato vivo benissimo. Carletto lavora. Siamo noi due soltanto. Disgraziato! Ma non ti rendi conto che lo zio Calogero lascerà centinaia di milioni? Quella bella palazzina in piazza tutta sua! E poi c'è il podere! 70 ettari! Giobbeggia vigna! L'oliveto! Proprio l'oliveto! È una fondana d'oro! Perché con i tempi che corrono l'oro è salito alle stelle! Quando ci penso mi gira la testa! E attenta! Non te sedere! Che? Che c'è? Una info mi arrovinasti! Ma Davila! Che lasciasti il cuore! Grazie! Sai che ti dico? Pare molto meglio adesso! Eh già! Lui pensa all'arte, penso! Ma quanto sono sfortunato! Un fratello gioppocratino e un altro gioppo forbo! Schifo le famiglie! Buongiorno! Buongiorno! Don Franco, un'informazione! Dimmi, dimmi, Giacomino, che c'è? Mi sono sognato che mi ha morto mio zio! Ma chi lo dice? Ah! Ora voi avete sognato che mi ha morto mio zio? Ma chi lo conosce, tuo zio? Io ho altri problemi! E dimmi una cosa, Giacomino, che vuoi sapere di preciso? Quanto fa la morta di mio zio? Quanto fa? 91! Ma 91 non c'è! Ah, appunto! Gli zii non muoiono mai! Si spogli? No, sono venuto per domandare... Aspettato, si spogli per piacere, non perdiamo tempo! Dottore, io sono il nepote di Don Calogero Favazza! Sì, Don Calogero, è un mio cliente! L'ho visto anche stamattina! 120 di pressione! È grave! No, è perfetto! Ah, che bella notizia! Sai, io sono molto attaccato allo zio! Io sono il più affezionato di tutti i nepoti! Mi fa piacere! E c'è qualcosa che non va? Questo me lo deve dire lei! Oh, già! Si distenda! No, io veramente... Eh no! Eh no! Lei deve fare quello che dico io, altrimenti mi fa arrabbiare! Andiamo, via la camicia! Si distenda e si rilasci! Via questa camicia! Si distenda e si rilasci! Andiamo, su! Questa camicia! Questa camicia! No, questa camicia! Dottore, non è per farle un complimento, ma lei con mio zio fa dei miracoli! Non è merito mio? È suo zio che ha una salute di ferro! Lei è troppo modesto! Sa, a quell'età c'è sempre qualche cosettina che non funziona! Qualche polmone, qualche cuore! È il fegato! Il fegato! Il fegato! L'ho sempre detto io, il fegato! Deve smettere di fumare e di bere! Ma mio zio non fuma e non beve! Ma che zio è zio! Io sto parlando del suo fegato! Del mio fegato! Eh già? Ah già! Eh, a no del fegato! No, non ci pensi! Come non ci penso? Ci penso sempre! Penso al fegato, ai polmoni, alla mizza, ai reni, all'intestino, allo stomaco di quel santo vecchietto! Dottore, lei non l'ha mai avuto, non si può capire! L'ho avuto, l'ho avuto! Mai così a lungo! Appunto! Vedi che lei si interessa molto alla salute di suo zio! E per forza sono sua nipote! Allora vi dirò una cosa? Sì, me lo direi! Tenga d'occhio l'appetito! Ma qual è appetito? Quello tiene sempre una fame da lupo! Ma questo è bene? È bene! Già è bene! Però, 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 se dovesse perdere l'appetito... Sì, lei cura subito da me! E quando non perde! Ma finché mangia, niente paura! Sì! Felice, Francozzo, ce ne vogliamo fare questi due spaghetti, eh? È un'ottima idea, zio! E Antonio, porta un piatto! Ma che serve la Viglia? Ecco, come è bestia! Oh, che vera Viglia! Che vera Viglia! Che profumo! Buonissima! 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 Brava Antonia! Merovigliosi! Merovigliosi! Oh, meravigliosi! L'ortigara! Che fu l'ortigara? Tre notti sotto il fuoco dell'ortiglieria! Antonia! Antonia! Abbiamo finito! Ce lo facciamo un bicchierino di vino! Eh sì, grazie! Eh sì, grazie! Alla salute! Che fai? Bene! Ma sei a digiuno? Eh sì! Non hai mangiato? Già! Non ci avevo pensato! Ma chi? Scusami! Che ti dicevo dell'ortigrara? Eh sì! L'ortiglieria? Una carneficina! Quando ci penso che si chiude lo stomaco! Una carneficina! Veramente! Buon! Buon! Grazie! Grazie! Semplicar! Semplicar! Falser e placar! Sempre carne, 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 sempre 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 carne, del limone. Sì, non sono funghi, ma potrebbero essere ammelenati. Permetti che lì assaggio per me. Lo faccio per te. Mangia tutto. Purtosto, fammi un favore. Riempimi metà di quel bicchiere. D'acqua, d'acqua. Metti due cucchiaini di quella bomba. Due cucchiaini. D'acqua. D'acqua. Giro, gira, gira. Bene, bene. Tutto d'un fatto. Devo bere... Dimmi che sapore ha. Salata. Salata? Sì. Salatissima. Antonia, Antonia. Hai sbagliato un'altra volta, pollerina. Tu hai toccato una polta delle salve per digerire. E l'altra... Come burgante. Come ne sai? Mi sono cagato adesso. Ma come si, dottore? Con tutte le malattie moderne. Ma come si, dottore? Con tutte le malattie moderne. Colicistite, patite, colite. Si muore ancora di indigestione. No, è blocco intestinale. Non c'è più niente da fare, signore. Si è fatta la volontà di... Davvero, si è fatta la volontà di... Ma che dè? Gli avete parlato? Ha contestato il suo peccato di gola e gli ho dato la soluzione. No, io dicevo quell'altra cosa. Francozzo. Gli avete telefonato? Se la prende comoda il nipote prediletto. Zio! 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 Sono io, francusso tuo. Me riconosci. E tua nipote prediletto. Non te ne andare, fosse Zio! 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 Ma che fai? Gli incalcio le mosche, ma non ce ne sono. L'anno dopo. Zio, non devi andare. Non mi lasciare così. Dimmi qualcosa. Parla. Mi lasci. Dillo più forte, così lo sentono pure gli altri. Che mi lasci? Il palazzo mi lasci. Il potere di Sopramonte mi lasci. Non lo faccia sforzare. Ma non si sforza, è contento di lasciarmi tutto, è vero, zio? L'uliveto, la vigna, tutto. Ma sta morendo. Ma quando mai non esageriamo, c'è una salute di ferro, lo ha detto lei. È vero, zio, che c'è la salute di ferro, che mi lascierei di universale, è vero? Chi tace e consente? È morto. Morto nessuno. Ma pare vivo. Pare vivo. È morto. È morto. Zio! Zio! Io voglio morire del volto. No, no. È morto, lasciatemi! Non ti stoppate vivere! Non ci è morto, lasciatemi! 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 Zio, anima santa benedetta, era più della che di qua, non aveva fiato per respirare, ma ha trovato la forza per esprimere le sue ultime volontà a me, lasciandomi erede. L'avete sentito tutti, eh? Che mi hanno lasciato erede universale, con le vostre orecchie, l'avete sentito? Eh? Me voto! Me voto! No, no, no! Me voto! No, lasciatemi! Voglio morire! Lasciatemi! Voglio morire! Voglio morire! Un altro giorno fa il punto. Che? No! Ora voglio morire! Voglio morire! Voi? Voglio morire! Voi? 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 Ce l'hai lo zio? No! E allora che vive a fare? Zio! Il cuore! Sto male! Fa' cosa? Sto male! Fa' cosa? Sto male! Le pulsazioni! Le pulsazioni! Normali! Normali! Io me voto! No! 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 Mi voglio morire! Salmo! 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 Grazie a tutti. Bello, bellissimo, meravigliosamente bello. Allora sono bravo. No, tu fai schifo. È lui che è rimasto bello, in quanto è bello naturale. Ma lo dipinto io. E che significa? Lui è riuscito a rimanere sempre bello, anche se l'hai dipinto tu. Sì, sì. Sì, io ti do il benvenuto in questa casa, che è la tua casa, ma che in questo momento è la nostra casa. Però è sempre la tua casa. Mi permetti? Sì? Lo vorreste baciare, eh? Sì, sì. Arrovinereste la pittura e quindi non ve lo faccio baciare. Senti, bisogna attaccarlo. Dove l'attacchiamo? Dove l'attacchiamo? No, dico dove l'attacchiamo. Dove l'attacchiamo? L'attacchiamo al muro. Anche lui merita il suo posto. Sì. E sì, si deve guardare a tutti quanti dall'alto, come se fosse un capitano di marina, che guarda i suoi marinai dal ponte di comando. Sì. Ma non si può, non si può. Le dico che non si può, signora. Ma come si fa a creare un ambiente di gusto, raffinato, con quella cosa orrenda? E una mostruosità mi rovina tutto l'ambiente. Non vi fate sentire da mio marito, ingegnere. Ma chi ingegnere? Sono architetto. E non vi fate sentire lo stesso? Ah, non mi sentirai come? E lui che mi ha voluto, sa, mi ha fatto venire da Milano, pensi un po'. Io a Milano vi ci rimanda se volete levare all'altarino e vi tratto della buon'anima. Allora sa che cosa le dico, signora? No. Che se non mi date carta bianca sono io che me ne vado. Ma caro geometra! Che geometra è geometra, è matta questa? La carta ve la diamo. Di tutti i colori. Igenica, di imballaggio. Imballaggio, imballaggio. Ecco, vede? Io su quella parete ci vedrei... Che cosa? Un acquario. No, capricorno, io. Non è un oroscopo, cara? No. Agatha? Sì, Teresa? Si aspetta la sarta. Grazie, Teresa. Che sbadata. Avevo dimenticato la sarta perché avevo ordinato una colazione da lutto. Collezione, cara. Ma cosa sta succedendo qui? Perché non lo vede? Sto rinnovando tutto. E i mobi? Che fine hanno fatto? Regalati. Un po' i robi vecchi, un po' di qua, un po' di là. E i quadri? I quadri? Quelli non li ha voluti nessuno. Li ha messi in soffitta. Mario! Signor Favazza? Dico. Scusi, devo parlarne. Dica, dica. Allora, volevo dire... No, dopo. Prima rendo omaggio alla buonanima. Buongiorno, zio. Dormito bene? Grazie. Permetti? Teresa! Agatha! Agatha! Ma hai chiamato, caro? Prendiamo omaggio alla buonanima. Anche tu, Mario? Agatha! Architetto, omaggiate anche voi. Ho già mangiato, grazie. Non ho detto omaggiate, ho detto omaggiate anche voi. Omaggiamo. Agatha! Inghieniamoci. Mio zio, ti ringrazio di tutti i milioni quotidiani che ci hai lasciato per il nostro fabbisogno. Grazie. E sempre siamo dato, lo zio che ci ha lasciato. E sempre siamo dato, lo zio che ci lasciò. Amen. I piedi? E qui? Dica, architetto, dica. Niente. Come niente? Niente! 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 Non ha detto niente. No, ha detto niente. Rompete le lighe! E il pieno e metti in conto. Papà, adesso ti presta pure la macchina, eh? Questa è mia personale. Papà si ha fatto l'ADS. Pure. E a mami ha comperato la 128. Mami? E chi sarebbe questa mami? Ma la mia genitrice. Ma la mia genitrice? Una volta la chiamavi mamma. Senti, Carletto, se vuoi litigare posso andare a fare benzina in un'altra pompa. Come no? Tanto ti fanno credito tutti, no? Basta che si presenta uno di voi altri che è tutto inchino, bacio le mani e vi tirano dietro la roba. Ma chi li vuole i soldi da voi? È un onore, è un piacere. Beh, sai, il nome Favazza... E io forse non mi chiamo Favazza, ma a me nemmeno un pacchetto di sigarette se non caccio fuori i contanti. Carletto, Carletto! Senti, se hai qualche rospo nello stomaco, tiralo fuori una buona volta. Non ho nessun rospo, per quello che me ne importa. Non te ne importa di cosa? Di niente. Carletto, se voglio fare i rebus mi compro la settimana enigmissima. Non c'è nessun rebus, sai benissimo di chi parlo. Di chi parli? Lo sai, come lo so io, come lo sanno tutti quanti. E continuiamo a farci ridere dietro da tutta la cittadinanza, continuiamo. Ma a ridere di che cosa? Il caro papà e la tua cara Memi hanno deciso che chi vuole sposare la figlia deve essere perlomeno nobile, come quel morto di fame del balone Fifi. E c'è un signore. Lo fido, lo fido. Chi è, il fioraio? Ma no, è il bavone. Barone. Signor Franco Salazza. Barone. Signora, una cosorella rovetta. Barone. Signorina Tina. Ho pensato anche per te, un bambino, caravelle americane. Teresa! Teresa! Ti prego, cara, mettili nel bagno e non li fare sciopare. Fantastico, meraviglioso, eccezionale. Che cos'è? Eh, 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 è lì. Lo conosco. Ma una cosa bella modesta, bavone. Peccavità, peccavità. Oh, che belli, che belli, veramente be' un fetto tutto. E questo per cosa è? Questo qui. Eh, deve essere, ehm, un ragnatela. Oh! Che, oh! Che c'è? Oh, che male! Quella macchia! Quella macchia! Quella macchia! Quella macchina! È stato poffato una tipa po' pepe? Eh, sì? Sì, quella macchia là di antico. È fantastico! Che trovata, che trovata! Oh, questo tostamento di moderno e di alzaico, di sacro e profano. È eccezionale. È una mia idea. Che vottura, che vottura! Lei ha rotto gli schemi. Mi scusi, signor barone, se ho rotto non me ne sono accorto. Permette, zio, ho il piacere di presentarti il barone Feffì. Feffè. Feffè, Feffì, siamo... Sì, sì, Feffè. Siamo sempre lì. E... O zio, buonanima. Buonodottissimo. Agatha. Sì, franzo. Senti, perché non fai accomodare il barone? Ma certo. Prego, barone. Io intanto mi dico le mie preghiere serali. Capisco. Prego. Cala signorina, lei non si credeva, ma io al suo bozzio devo moltissimo. Non lo credo bene. Lo gioco stavi soldi a strozzo. Voi siete indebitato con Mezzomondo. I conti tornano. Tina. Prego, favore. Lasti dire, lasti dire, figliova. Scherza, scherza naturalmente la sua cava, bambina. Tina. Tina, siete vicino al bavone. Oh, deliziosa. Io invece passo sediamente, sa? Ma come ancora non avete offerto niente al barone Feffè? Feffè. Feffè, Feffè. Che sbandati! Tina, offri qualcosa al bavone. Ah, ci deve essere ancora un po' di capretto di oggi. O gradite di più una bistecca? Ma che figura mi fai fare? Credeva avesse fame. Ma no, il barone è un uomo di mondo e preferisce una gazzosa, un'aranciata, una Coca-Cola. Oh, io veramente per essere di te un gran maniere. Un gran maniere. Un manieremo dopo. Ma no, il barone intende... Ma sì, un cognacchino se c'è. Come se c'è? E noi abbiamo un rifornimento da fare invidia alla esso. Tinuzza, offri da bere al barone. Un cognacchino al barone. E tu, papà, cosa preferisci? Un ternò o un whisky? Per me un pernacchio o un fischio fa lo stesso. Dammi qualcosa da bere. Non si può, c'è una visita. Fermi e dolotti! Chi? Anche la mia è una visita. Ora che fa? Bisogna farsi precedere da una domanda in carta bollata per venirti a trovare. Ma io ti domando e dico. Come ti permette di portarmi a casa? Uno, io e te do. Cio, 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 via. Chi è? Chi è costeio? Quella lì è mia sorella Maddalena, sposata e mancusa. Che si dice? Piace! Eh, cara sorella Maddalena, che si dice? Ne lo dirà il mio illustre avvocato. Noi non lo vogliamo sapere. Levate. Salva tua figlia. Vieni a mamma. Indietro. 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 Dica, dica. Vengo subito al dunco. Viene subito al dunco. Ma come? Voi se lo fa morire. Guardi in aria, l'uccellino, in aria. In aria. In aria, l'uccellino. Dica. In merito ai beni del vostro defunto zio Don Calogero Favazza. Buonanima. Buonanima, che Dio l'abbia in gloria per quello che fece sia in vita che in morte. Ma soprattutto in morte. Amen. Dicevo, in merito ai beni del vostro defunto zio Don Calogero Favazza. Buonanima. Avvocato, e quanto vi costa dire buonanima? E ditele, andiamo avanti. Va bene. Lo dirò. Lo dirò. In merito ai beni del vostro defunto zio Don Calogero Favazza. Buonanima. Buonanima, bravissimo. Nei quali? Voi, eh? Io, voi. Siete subentrato senza possedere alcun titolo. Non possengo nessun dedo. Ma che facciamo, scherziamo? E il titolo della terza elementare dove lo mettiamo? E il titolo di campione, bocce di tutte le sale parrocchiali? E il titolo del libro che ho letto ieri dove lo mettiamo, dove lo mettiamo? E poi, e poi presto entrerà il barone in famiglia che porterà il suo stemma con sette palle. Uno, tre, quattro, sei fessi. L'avvocato intendeva dire che ti sei impossessato della proprietà di nostro zio senza alcun diritto. Ma sentetela questa, sentetela senza alcun diritto. Ma io a questa me la faccio, me la mangio, me la mangio, me la mangio, me la mangio senza nessun diritto. A me, che sono l'erede universale. Non sei l'erede. Lo disse lui, che sono l'erede universale. Te lascio, te lascio, erede. I testimoni asseriscono che vostro zio ha detto ti lascio e basta. No, basta, non l'ha detto. No, basta, lo dico io. No, voi basta, non lo dite e basta. Ti avverto che ricorrerò in tribunale. In tribunale. E tanto per cominciare ti farò snoggiare dal palazzo. Dal palazzo. Sì, signor. Quale palazzo, questo? Sì, signor. Ma questa è casa mia, casa mia. Non è casa tua. Non è casa tua. Sende, la zio dice che non è casa mia. Diggielo tu. Ma poi dico pure tu, invece di dire tante volte te lascio, te lascio, te lascio. Poteva dire un te lascio di meno e diceva te lascio, erede. Ma non l'ha detto. Ma l'ha pensato. Se l'avesse pensato avrebbe fatto testamento. Il testamento c'è. Dov'è? In paradiso. In paradiso? Stai in paradiso il testamento. Ma quando mai? Ma che schiaffio dici? In paradiso c'è la buon'anima. Il testamento sta sulla terra. Ma dov'è sto testamento? In qualche posto sarà. Il testamento per legge va affidato a qualcuno. O a un privato o a un notaio. O a E I I O U. E il notaio, scusi, che fa del testamento? Che fa il notaio? Convoca tutte le persone nominate nel testamento. Che c'è? Che cosa hai fatto? Disgraziato! Chiama tu l'esorcista! Quella lettera! L'esorcista! L'esorcista! Dove l'hai ricordata? Dove l'hai ricordata? Dove l'hai ricordata? Ce l'ho io la lettera? Ce l'ha lei. Ce l'ha lei, la lettera che è arrivata dal notaio. Ma come è disgraziata? Arrivata la lettera dal notaio? Non mi dice niente! Non mi dice niente, c'è il testamento, adesso vedrete. Eccola, eccola la lettera! Eccola, eccola! E dentro c'è il testamento! Grazie, Zeo! Grazie, grazie! Grazie! Grazie al testamento! Maddalena, vieni qui! Avvocato, venga qui! Adesso leggiamo! E a voce alta! Sì, sì! Leggi, papà, leggi! Che c'è! Zitti, zitti! Sentite, sentite! Barone, 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 la legga lei, la legga lei perché io non ci vedo bene. Dunque... Egregio signor Franco Fabà. Solo io, solo io! Grazie, zia! Grazie, vado avanti! La signoria vostra... No, la signoria, ci sei pure tu nella signoria! La signoria vostra è invitata il giorno 28 C.M. Cina meridionale. Che dici? C.M. C. meridionale. No, 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 è corrente. Corrente elettrica. No, corrente mese. Ah, corrente mese. Vado avanti. Alle ore dieci precise. Alle dieci precise. Allo studio del notaio Francesco Parigi. Per l'apertura... L'apertura. ...del testamento... ...del defunto Don Calodero Fabà. Grazie. Grazie. Prego. Grazie. Presentate la lettera come attestato d'identità. Ebbè, questo è un po' pericoloso. Non lo dovrebbe fare, zietto, presentarsi al notaio con la lettera attestata e così. No, deve presentare, va detto, come attestato d'identità. Ah, attestato, documento. Ecco, documento d'identità. E poi? Punto. C'è un punto. Questo è misterioso, il punto è sempre misterioso. Terminata la lettera. Terminata. E distinti saluti, firme varie. Ho capito. Firme varie, come l'Uperman. Che uno entra e trova tutto vario. Tutto varie. Adelena, Adelena, hai sentito, eh? Certo. C'è l'acido in fai. Adesso, ragazzi miei, vogliamo rendere omaggio allo zio su una bella cantatina. La vogliamo cantare? Cantiamo, cantiamo. Zio, zio tondo, che hai lasciato il mondo. Con un bel sorriso, sei andato in paradiso. E a noi che siamo buoni, ci hai lasciato gli milioni. Ale, 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 ferma, D'alena non ce n'è. Ale, 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 ferma, D'alena non ce n'è. Ale. Un omaggio allo zio, un omaggio. Avvocato, e fateglielo cadere in testa quel quadro. Signora, vi ci mettete anche voi adesso? Maddalena, Maddalena, vuoi baciare anche tu lo zio? Ma sì, ma sì, Maddalena, cara, viene anche tu a baciare. Mi dispiace, mi dispiace tanto per te, cara cognata, ma te ne devi andare con le pizze nel sacco. Le pive, mamma. Almeno tu dovresti avere il pudore di stare zitta. Me lo sono tenuta per vent'anni. Io lo sapevo a chi sarebbe toccata l'eredità. Ha preferito il nipote Francusso per la bella faccia di sua moglie. Ma che dice quella? Quello che ho detto. E chi vuol capire, capisca. Andiamo, avvocato. Vimpa, bella cosa di vita. Calognatrice, mentedrice. Ma io mi farò dare soddisfazione del suo marito. Papà, non! Lasciate! Non ti preoccupare, papà. Parone, voi mi dovete fare da padrino. Mi ha offeso in casa mia. Mi ha chiamato cornuto davanti alla buonanima. Papà, non fermo un po'. Casa tutta. Ma come ha potuto infangare il nome della buonanima, come? Non lo so. Ma voi la vedete questa cosa? Mio zio con mia moglie. Questa qui. Ma non scherziamo. Guardatela bene, barone. Ma vi sembra possibile? Mio zio con... Uè, vent'anni fa ero tale quale attiluzza. Allora confessi, allora tra te e lo zia c'è stato l'incesto, eh? Io non sono stata mai al cesso con la buonanima. Ma che dici? Né con altri. Però vent'anni fa non ero da buttar via. Signor Favassa, ma che cosa va a pensare? Vent'anni fa la buonanima ne aveva 69. Già. 69 e 70. E appunto. E quindi un uomo ha 70 anni. Ha 70 anni. Per quanto il signor Favassa, buonanima, a 80 ne dimostrava 50. Permesso? Signor? Avanti. Avanti dove? Avanti a voi. Non c'è nessuno. Perché se vieni, avanti, vieni davanti. Ma è. Buongiorno. 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 Buongiorno, signore. Io sono venuto per l'apertura del testamento Favassa. Ah, ho capito. Siete parenti? Eh, inconsolati. Ho capito. No, no, no. Ci lasci piacere? Sì, sì, no. No, vicino, se questi sono parenti... Ma con chi parli? Con mio zio, la buonanima. No, ci stavo dicendo, questi sono parenti vostri. Questi sono parenti del defunto. Ho capito. Sono parenti miei. Ho capito. Io sono il nipote prediletto. Ho capito. Sono l'erete. Eh, come fate a saperlo? Eh, come? Come fate? Il testamento si deve ancora aprire. E questi non sono affari che vi riguardano. No, no, mi riguardano. No, non ci ha fantasticare. Perché fantasticare? Sto facendo il mio dovere. Lei lo conosceva mio zio Calogero? Calogero non lo conosceva. Non lo conosceva. Ma era mio zio. Era suo. Quindi se c'era un rapporto tra a zia e nipote ce l'aveva con me. Non sono fiecare. Sì, sì. E di lei non sono cose che la riguardano. Lei non è tenuto a saperlo. Ma io non lo voglio sapere. Caro signor Notaro Parigi. Non è Notaro Parigi. Lei non è Notaro Parigi. Non sono Notaro Parigi. E allora, chi è lei? Io sono il sotto. Sotto il Notaio. Sotto il Notaio. Il Notaio, se siete. Ma no, signore, sono il commesso. Ah, è viaggiatore? Viaggiatore. Non è viaggiatore. No, quale viaggiatore? Non è picciore. Non vola lei, non vola. Stia tranquillo. Fa pazza, stia a posto suo. Che mi sa facendo? Io sono a posto mio, mi scusi. Ma sta facendo una lettera? C'ho una lettera, che mi è arrivata. Sì, la lettera. La lettera, dove è? La lettera ce l'hai tu, fra l'era? Sia fermo, dov'è la lettera? Ce l'ho io, la lettera. Che la dino fuori. Che la dino fuori. Che ho un appuntamento stamattina alle 10 per parlare con il Notaio. C'ha un appuntamento alle 10. A lei, alle 10. Se non sono ancora alle 10. Il Notaio è preciso. Se sono alle 10 in punta, arriva il Notaio Parigi. E' permesso? Permesso? Non le faccio entrare. Perché? Non le faccio entrare. Questa gente è qui, bocca. Mi lasci passare. Ma se lascio passare lei, lei lascia passare loro. E' logico che le lascio passare. E' lasciapassare ce l'ha. Ma che lascia passare? Se la fermo con le mani. Ma perché? Ma non mi tocchi. Ma perché se la tocco che sono infettivo. Non mi deve toccare, non mi deve. Non mi deve toccare. Sia a posto suo, palazzo. Che è il ruento, lascia aperto. Non lo so se è rumeno. Prego, si accopodano. Faccia piano con le carte. Non mischi le carte. Non mischi. Che c'è la mascotte? No, stia calmo, stia calmo. Favazza. Io vorrei sapere che vi ha autorizzato a fraccare il naso negli affari che non vi riguardano. E che riguardano solamente me e lo zio Bonanema. Evidentemente ci entriamo anche noi. Dal momento che l'illustrissimo signor notaio ha mandato anche a noi la lettera. terra. Terra. Ora lui. Ma dico io il signor notaio come si permette. Lui il testamento lo deve leggere a me. Ma dico te. Che sono l'eredo universale. Ma chi l'ha detto che siete l'eredo? La Bonanema. La Bonanema. Zio. Zio. Diggielo tu. Zio. Zio. Diggielo tu. Ma cosa state facendo? Senta Fabazza. Mi faccia il favore. Mi faccia il favore. E che... E a posto su. Il favore. Mi faccia il favore. Come parla? Signora per favore vuole continuare? Questa la vedremo. Se siamo stati invitati il segno che siamo nominati nel testamento. Senti io ho l'impressione che il mandorino e il notario ci combinano qualche imbroglio. No con i notari non ci possono essere imbrogli. Tu sei convinta che lo zio Bonanema l'ha nominata nel testamento di sua spontanea volontà? Può essere. Io non c'entrano. Ma non ci possono fare. Mi fece spaventare. Era una conversazione a carattere privato. Stia calmo. E sono calmo. Avanti signora, avanti. Ci sono tutte. Ma... Ma... Ma cosa faccio? Ma... Anzi, sono quasi le dieci. Sono le dieci. Questa riva è puntuale. Prendere i posti. Prendere i posti. Con calma. Con calma. Con calma. Lo che siamo al cinema con... Ma che è successo? Prenda, libera, lavandola. Tira con reti. Insomma, signore, calma. Ragioniamo col sedere. Senta, lei mi deve fare la cortesia. Deve essere chiaro quando passa. Che significa ragioniamo col... Senta, cicoriazza. Favazza. Cosa ha capito? Ho detto ragioniamo col sedere. Sì, 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 signore. Signori, signori, prego. Se non siamo al mercato. Ma che... Il notaio. Parigi. No, Potenza. Che viene da Palermo. Che viene da Palermo. Si mette a seduto. Per cortesia, i convenuti siedono qui davanti a me. Ognuno segue il suo gruppo. Con calma. Il suo capotruppo. Il suo capotruppo. Ciao, ciao. Permesso? Ma per passare. Permesso? Passa. Permesso? Dove vai? Qua attenzia, tu appartieni a me. Per favore. Ma e papà. Non ci faccia caso. Fanno così, ma si vogliono un gran bene. Ci vogliamo fare. Come caneca. Zitto, tu. Zitto. Ma te non la vogliamo smettere? Salma, Blanco. Lei è il notario Parigi. 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 Potenza. Potenza o Palermo? Vengo, sì. Potenza. Che viene da Palermo. Potenza. Che viene da Palermo. Esatto. Posso? Prego, prego. Prego. Signor Franco Palazza. Sedente. Sono seduto. Sedente. Signora Maddalena Palazza, maritata Marcuso. Sedente. Tutte e tre. A sedere. Signora Maria Palazza. Mario. Mario. Non lo fa pazza, signor Lataio. A me mi risulta Maria. Hai cambiato sesso. Ma che sesso dici, Francuso? Eh, un informato. Signorina Antonia Santofilippo. Presente. Signorena. Signorena. Tanto di signorina. Ci ha messo l'onatante. I signori di signori di verificare che i sigilli sono integri. Non si preoccupi, signor Lataio. Lasci perdere, ci vediamo. Ma questa è la norma. La norma di Giaveata. Di Garabaldi. È la prassi. La prassi, il soprano. Ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai sentita cantare. La prassi. Cosa conosce il notaio? Hai visto? Gli ho fatto l'occhiolina a Maddalena. Se la intendono. Il notaio? Non è possibile. Prego a loro signori di verificare. Nel mio studio gli atti si firmano ancora come una volta. Niente stilografica. Niente stilografica. Penna e calamaio. Penna e calamaio. Firma lei, firma lei, firma lei. Il primo che ha salamato... Come? Ma che siamo facendo? Chiedo scusa, mi scusasse, dottore. Ma dico, si ricordava il suo vecchio mestiere. Quale mestiere? Io incomincio a ricordarmi di lei. Ma che cosa? Nelle piazze. La saponetta. La saponetta. Ma me faccia il piacere. Taccia, a posto suo. Tutta a posto, tutta a posto. Ma vale, dottore. Nunca procediamo. Prego, ma il commesso che... Si lega. Hai visto? Gli ho fatto un'altra volta l'occhialina a Magdalena. Hai ragione. Il notaio inquinato è. Questo è il mio testamento. Se nel suo testamento lo metta da parte perché non ci interessa. Ma dico, io leggo. Questo è il mio testamento. Sì, ma a noi non interessa. Noi vogliamo... Come ti interessa? Lei lega l'altro, il suo. È il suo. Ma no, il suo, suo. Il suo, suo. Del fu. Del... Dell'abbonato. Del fu. Zio. Zio. Ci siamo fatti il piantello. Posso continuare? Proceda. Io santo scritto, Calogero Falazza. Lasciando questa terra di dolore il mio ultimo pensiero lo rivolgo a Dio che nella sua misericordia possa destinare la mia povera anima fra il sorriso degli angeli. Lo zio è arrivò tra gli angeli, se trova e gli angeli tra di loro si accoppiano. Riede, riede, riede. Continuaste, signor notaio. E poi ridiamo noi. I perà. Trega. Lavandoglio. Stira con le... Posso procedere? Controvasse, controvasse. Lasciate che il notaio... Sì, 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 silenzio. Che c'è? Non c'è niente. Posso procedere? Il gatto. Il gatto. Per quanto riguarda le mie sostanze, dispongo come appresso. Istituisco mio erede universale ed esecutore testamentario... Papà, papà. Franco, papà. Cos'è fatta male? Poderiamoci. Stavo cadendo. Il mio amato nipote, Franco Favazza. Sì, sono arrivato. Sì, sono arrivato. Ricchi, siamo arrivati. Favazza, calma, calma, Favazza. Le guarde, le guarde, signor Dadaio. Cadaveri sono, morti sono. Un repatto, un pugno di verde. Silenzio, Favazza. C'è un giugno. Favazza, calma. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Favazza. Stesso. Favazza, calma. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha. Ha, ha. Tutti in bosa? Sì. Oh, sì? Zio, questo amaggio a te un gruppo di famiglia. Signor Pavazza. Che? Signor Pavazza, che sta facendo? Un omaggio allo zio. Ma mi faccia piacere, signor Pavazza, via, andiamo. Scusi, mi strego subito e ci cambiamo. Andiamo, subito. E adesso che fai? Abbagno. Per che fai? Per firmare. Ma che deve firmare? Devo ancora finire di leggere. Vabbè, ma che legge a fare? E come che leggo a fare? Se sa, la rete universale sono io. Io non conto niente. Lascia per me. Signor Nadaio, lascia per me. Ma lascia per me, ci sono i legati. Dove sono? Chi? I legati. Da dove vengono? Non vengono da nessuna parte. Sono nel testamento. Sono qua i legati. Sono qua. I legati? Sì, stanno qui. Nella casa. Adesso vado a sederci che devo continuare a vestire. Abbagno allora. Abbagna dopo, dopo. Adesso vado a sederci. Va bene. Lasci lì la pena, si sieda. Si metta seduto, stia calmo. Ma io devo... Abbagna dopo, qua, qua, qua. Sì, sì, da presto. Posso procedere? Procedo. Grazie. Leggo ai miei nipoti Maddalena e Mario la somma di 20 milioni ciascuno da pagarsi dal mio erene entro cinque giorni dall'apertura del presente testamento. 20 milioni tutti per me? Zio! 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 Maddalena! Hai visto? 40 milioni. 20 per te e 20 per me. E ce li da francusso, ce li paga Maddalena. Nini! Che cosa sono 20 milioni? Che cosa sono? Ha fatto sul bello sforzo. È giusto. Mi scusi, signor notario. Prego. Li dice 20 milioni da pagarsi dal mio erete. Esatto, cioè da lei? No, io sono l'erede universale e anche esecutore testamentario. Perfetto. Quindi qui ci dovrebbe essere un altro erede, cioè quello che paga. No, è la stessa cosa, è sempre lei. Abbagna. No, no, c'è ancora legati. Ma io abbagno. No, no, abbagna dopo. Adesso ci sono i legati. La penna, la penna. Ma io devo abbagnare. Dopo, dopo. I legati prima. Gli do la penna. Gli dia la penna. Gli dia la penna. Vada. Dunque. Leggo alla mia affezionata cameriera Antonia Santofilippo la somma di lire 5 milioni da pagarsi come sopra dal mio erede. Sempre da me. Come? 5 milioni. Dopo tutto quello che ci ho fatto. 5 milioni. E poi me le deve dare lui. Ma perché lì? Ma me scusi, signor notario, non è per fare il pignone. 40. 5, 45. Non so se mi spiego. Abbagno. No, questa volta lei non mi frega. Io abbagno. Lei non abbagna, abbagna dopo. Adesso si vada a sedere, per favore che devo leggere. E va bene, ma... Si accomodi, per favore. Palazzo, per favore, posa la penna. Si accomodi. La penna, posi la penna. Ma dopo devo andare. La penna posa. Gliela fecchi a Palazzo. Signor Palazzo, si accomodi. Non minaccio. Si accomodi, signor Palazzo. E' un palazzo sfumò. Fatta eccezione, fatta eccezione per le suppellettini, i mobili, i quadri e quanto altro in esso contenuto che rimane tutto di proprietà del mio erede. Ma che... Non lasci, non faccia scherzi. Io sono l'erede. E io sono l'erede. E io sono l'erede, quindi la responsabile dai. E va bene, lei firmerà dopo. E faccia. No, 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 dopo, io sono l'erede universale. Questo l'ho capito, non ci sono dubbi, lei è l'erede. Sì, va bene, però lei 5 milioni le dà a quella, a 40 quegli altri, il palazzo, la parrocchia, a me che mi rimane. La prego. Ma che bagna? E' la bagna dopo, si vada a sedere. La penna, ma ti lasci lì la penna, sedere. Si vada a sedere. Va bene, la penna. Si vada a sedere, prego. Ah, firmerà dopo. Leggo all'ospedale civico il mio podere nominato di soprammonte. La bagna. Dopo. Leggo al convento dei Cappuccini la mia vigna incontrata Fosso Martino. Dopo. Leggo alla confraternita dei fratelli pietosi un mio oliveto. Dopo. Abbagni. Madonna. Che abbagni. Un oliveto. Il podere di soprammonte. Il palazzo. La vigna. Così. E le belle terre volarono. immergi che venne raggiungo! Compa a sava oyun. Chiudi gli occhi, non li guardai. Non li guardai. Con dolianze. La Covid non li guardai. Non li guardai. Chiudi invece sono. Calma! Ma robaamamand ! E ricordati, Ricordati, hai solo cinque giorni per pagarmi i 20 milioni. Stavolta l'ho presa in castagna. Gli ha fatto l'occhio a lei. Siete d'accordo? Ma io la denuncio per l'ordaggio. Io l'acquerello. Ma mi denuncio. Io quello che ho letto sono le ultime volontà del compianto. Ma guarda il compianto. Che non fa cosa? Un caro ognuno. Alza, fa volta. Il tornato. La vozza calda. Il corrandoccio ne ha. Te lascio. Te lascio. E me lasciaste in mezzo ai guai. Te lascio. Te lascio. Con una mano davanti e una dietro. Fornoto. Fedoso. E sei guai, me lasciaste. Scendici. Scendici. Dobbiamo parlare a quattro occhi. Gli occhi negli occhi. Non vuoi scendere? Te trovi bello. Ma non sei in paradiso? Sicuramente sarai all'inferno. Lì. A bagnomaria. Con il vapore. Con le fiamme sotto. E io neanche qui sto bene, sai. In mezzo alle fiamme me lasciaste. Cornuto. Cornuto, cornuto, cornuto. Cornuto, no. Cornuto cos'è. Cornuto. Cornuto. Ma chi corna a tuccio... 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 Pornoto. C'è la fede, guardate pas, ne colpa tu, nas calcoli, fetus, te las, te las, mi hai lasciato peggio del lumacone, perché il lumacone ce l'ha alle corne, però contemporaneamente c'è pure la casa e tu a me senza casa mi lasciaste. La scolzola. E va bene. Da questo momento, austerity. In omaggio. Che boss? Me la pagherai. In omaggio. Per l'amor di Dio, tornate da me. In omaggio. Franco, Tina, Teresa, Tina, Franco, ti prego, ti prego, ti prego, calmati. Piuttosto voi, che fate lì vestite da cornacche? Il lutto, il lutto, Franco. Niente più lutto, in omaggio alla buonanima. Dovete andare in giro per tutto il paese vestite di rosso, di verde, di giallo, di celeste, di bianco, tutti i colori del mondo. Lo devono sapere tutti, vi devono vedere tutti. Andate, via. Ma perché si vestirono del rosso? Perché non lo sapeste? Senza piccioli rimasero. Davvero? Senza piccioli. Che fessi ci hanno fatto allora? E fessi? No, qua bisogna provvedere. Bisogna provvedere. Provediamo. Vabbè, ma io stavo scegliere la passeggiata. Dove ne dà? Vediamo tutto le facce, tu stessi. Vediamo, vabbè. Chiamano. Con il ruolo, con il ruolo. Avete. Avete. Grazie a tutti. Non pago. Sì, non pagare. Pronto. Pronto. Attento, sono riuscita a recuperarle tutte le cambiali. Permesso. Permesso. Così lei non avrà il processo e la dita non le farà più causa. Grazie a quel farabotto. Tieni. Contali. Ma com'è? Portano via tutto? Senza imballare? Ma non si rovinano? Ma no, che non si rovinano. Vanno qui vicino. E si vanno qua vicino, a due basse. Permesso. Uffa. Permesso. Sei d'architetto. Lei mi deve spiegare una cosa che io ancora non riesco a capire. Permesso. Uffa. Io vorrei sapere. Come fate voi milanesi a sapere quello che accade nel sud? E in particolare quello che è accaduto a me, tranne se non l'avete letto sui giornali. Un segreto. È un segreto. È un segreto. La persona che ci ha informato è quella che ha comprato tutti i mobili. È del paese. È del paese. Ma non si deve sapere. Per il buon nome della nostra ditta, capisce? Top secret. Top secret. Top secret. Ma con chi parli? Top. Top. Staranno meglio a casa mia. Ha topato. Ho capito chi è. Brutta sfiona del sud. Ti sei venduta ai nordisti. Ecco cosa hai fatto. Hai infangato la nostra terra. Tu sei degna di quel farabutto della buonanima. Ecco cosa sei. Guarda come l'ha ridotto. Come lo tratta. Povero zio mio. Non scherzo. Se non ti dispiace, lo tengo io per ricordo. E tienitelo. Tienitelo. Anzi, che ci sei. Vai pure su in soffitta e ti prendi il suo cantero, il suo vaso da notte con tutto il seggione al completo, degno della facciazza sua. Zio mio, mi hai dato una soddisfazione più grossa dei venti milioni che hai mai lasciato. I venti milioni. Grazie. I venti milioni. Dice che con i venti milioni dell'eredità, dice lei, che io gli devo dare. Si comprerà tutto il mobili. Ma non lo sa che l'eredità si può rifiutare, non lo sa. E io la rifiuto. E lei non può pagare i mobili. E io la rifiuto. Mi fa male il feg. Mi fa male il feg. Adesso, che ne sape. Mi fa male il feg. Mi fa male il feg. E che se ne fotte, modestamente, non ci mancano i soldi per pagare i mobili e per rinnovare tutta la casa. Si, perché ce n'era bisogno. Specialmente, ova, che è frequentata dall'avistocrazia. Ha 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 Eh seguiamoci Tua figlia ha preso lo scambatto di nostra figlia Già , gia Per una volta che è passato di qua Chissà che cosa vi siete messi in testa Il babone Fefe sta a casa tua dalla mattina alla selva A mangiare vigne e cannoli Quel morto di fame Strugiti e mangati le ossa Lavandaglia? Siracolletti? Vepera? Strega? Io ho licenziato quattro impiegati, dopo che siete andati via voi. Ma non sapevano far niente. Ma che scherzava? A carità, sbagliavano le giocate. Non conoscevano la smorfia. Se sapeste, voi non potete immaginare quanto vi ho rimpianto. Sentite, don Alfio, io sono tornato per riprendere servizi. Magari, per me, con le braccia aperte. Però... Però che? Non siete molto simpatico all'intendenza. Ma io non ho fatto niente all'intendenza. Come non avete fatto niente? Voi siete costato un capitale all'erario. Come no? Voi avete fatto avvicchire tutto il paese... ...facendolo giocare i quattro numeri che avete dato. Ma io non ho dato nessun numero. Come? E' già, è vero. Il 39, lo zia. Lo zia. L'88, l'eredità. L'eredità. Il 56, il fumo. Eredità, il fumo. Si, però quello che non capisco. Il 23. Ma come? Il 23! Lo scemo del paese! Voi! Ma che fai? Piangi. E che dopo ridere. Sono rovenato. Rovenato, capisci. Senza un posto. Senza un lavoro. Con una famiglia sulle spalle. In mezzo alle strade. Senza un soffitto. Tutta per colpa di quel maledetto parabutti. E allora piangi. Io non piango. Io rido. Io, io rido. E ballo. Alla faccia sua. E rido. Si. Rido e ballo. Rido e ballo. Rido e ballo. Rido e ballo. Alla faccia sua. Balla pure tu. Balliamo. Rido. 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 Coraggio, coraggio. Che siamo arrivati. Che figura. Che figura. Bello scorno per voi che snubbavate Carletto perché fa il benzinaio. Dove si va ad abitare a casa del benzinaio? Hai ragione figlia mia. C'eravamo montate la testa con quel palazzo. Meno male che se l'è figliato la parrocchia. Anche per un riguardo all'arciprede che ha riportato un peccatore alla chiesa. Riportate il palazzo alla chiesa all'arciprede. Lascia che lo incontro io e gli faccio due occhi così. Chi è? Lì al palazzo. Giusto cercavo di voi. E io cercavo lei. Perché? Niente. Niente. Vuole baciare la mano a posseglieria. Bacia la mano all'arciprede. La mano. Bacia la mano. Vorrei baciargli la mano. Sì ma ciao. Che bravo figliolo. Ho sempre avuto molte stima di lui. La mano. E' contento. La mano al reverendo. Francia. E così gli ho data la soluzione per l'ultima volta. Io mi dilungo in questi particolari perché so quanto l'amavate. Un'anima così bella è certamente in paradiso. La confessione mi ha dato questo pacchetto da consegnarvi immediatamente dopo l'apertura del testamento. In quel giorno ero a Roma per un incarico di sua eminenza e vi chiedo scusa ma sono tornato solo stamattina. Su apritelo. E se c'è una bomba. C'è? In un certo senso ci sono quattro libretti di risparmio del credito agricolo. Su avanti. Coraggio. Apri Francozza. E si è un pensiero della buonanima. Dai papà aprilo. Dai aprilo. Apri papà. E tu che ne pensi? Franco rompi i sigilli. E che penserà la buonanima che gli abbiamo rotto i sigilli? Non manchete. Dai forza. Dai zio apri. Ho l'impressione di spezzare l'anima della buonanima. Ma no aprila. Non ti preoccupare. Coraggio. Io non voglio aprirla. No io non voglio aprirla. Eh zia. L'apro io. L'apro lui. E notate la delicatezza di vostro zio. I libretti sono al portatore. Domani voi potete andare in banca e riscuotere l'intera somma. Se ne avesse fatta menzione nel testamento, ora dovreste pagare la tassa di successione che è fortissima. Da zio a nipote il 40% sono all'incirca 80 milioni. 80 milioni di eredità? No, 80 milioni sarebbe stata la tassa. Ancora tassa, ma che scherziamo e andiamo. 80 milioni di tasse sull'intera eredità che è di 200 milioni. 200 milioni di eredità. 200 milioni. 200 milioni di eredità. Maker Track 4 Mentre. Signor, signor! Signor! Quiccio, per mette un poco d'acqua! Ne puoi scalco l'acqua ! Ma questo è vino, io Most 2021 paurendo ? Le vie dei signore sono infinite. Manco, non vi lasciare vero, ma coveredso! Non mi rile2, Franco! La, 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 la... Che dici? La, 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 la... Che dici? La, 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 la... La, 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 la... Le brette, le brette. Grazie, zio. Grazie. Non ho mai dubbetato di te. Te lo merito un posto tra gli angeli. Te lo merito. Grazie a te. Tu sei un pò milioni. Però... Eh ? Però devo dare tutta la chiesa, all'ospedale, al convento, alla confraternata... No, dicevo, però, se volete riscuotere, dovete andare a Catania, perché qui non c'è la succursale del banco agricolo. Ma io parto solo, a Catania. Ma certo che ci vado, con tutti i libretti. Senti, senti tu, Calogero, preparami la valigia. Anzi, due valigie, Teresa, pensa c'è pure tu. Anzi, tre valigie. Tre. Tu tenuzza, prendi la valigia bancaria. E tu, Carletto, prepara la motocicletta, partiamo subito. Ma, zio, ora che arriviamo le banche sono chiuse. E va bene, partiremo domani, tu metti in moto lo stesso. Tu, Agatuccia. Io vado a Catania, riscuoto e torno. T'aspetto. In omaggio allo zio, domani mattina alle otto sarò davanti alla banca, davanti allo sportello, con i libretti per riscuotere. Milioni, 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 milioni. Uno, due, tre, quattro, cinque, fette, fette cinque, fette sei, fette sette. Lo voglio ringraziare di persone. Tu stai attento per il bambino, ti raccomando. Guardi, bambino. Ah già, scusa, mi sono destratto. Dov'è? Lo voglio ringraziare. Dov'è? Che cosa che c'è? Dov'è? 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 Lo voglio ringraziare. Dov'è lo zio? Dov'è? In cielo! Disgraziata, il rezzatto dello zio dell'abbonato. Se l'è impegnato Maddalena. Maddalena. Sì. Maddalena. Maddalena. Franco. 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 Che male. Oddio. Franco. 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 Franco, ti salvatete. Franco. Franco, ti prego. Franco. Prego, prego. La cilettina mi piace tanto. A presto! Ehi, papà, la vedete di soli, sul forno, all'inferno, alla buonanima, alla buona vera di me, alla buona vera di me. Non d'astrò di riprendere dal panico. E ce l'ha già! Non puoi veramente dire. Gio! Io vado, zio. Zio, zio. Così me lo c'è allo zio. Così, tutto sporco, ingenerito. Betto, betto. Zio, stai pensando a quello che penso io? Posso? Sei d'accordo? Sì? Ho detto sì. Sì. Giù il tuo betton, giù il tuo betton, in chino! Lo zio te ringrazio. Prezi, zio. La contendo a subito. Duecento milioni mi lascio. Signore i tredatori, domani pago a tutti. Quindi a mezzogiorno preciso, davanti al ristorante. Tutti lì. Alzi dentro il ristorante. Mangiate e bevete, pago tutto io. Sì, pago tutto io. Non sono pazzo. Sì, pago tutto io. Ma che fa, ma che fa, ma che fa? Dove va, dove va, dove va? Me lo dica, me lo dica, me lo dica. Eh, io veramente... Zitto lei! Dai, zitto tu! Zitto, lo dico io. Eh, mi scusi. Ha visto lo stop, ha visto lo stop, ha visto lo stop. Non l'ho visto lo stop. Non ha visto lo stop. Silenzio! Mi scusi, ma sono distratto, sa? Distratto? Sì, perché guai in famiglia. Eh, oggi siamo tutti distratti. Eh, sono... sono il lutto. Il lutto? E lei porta il lutto con una fascia bianca. Eh, sì, perché se mettevo la fascia nera sul nero si vedeva un nero. Ah, bella questa, spiritoso. Eh, sai, siccome ho avuto... Stia zitto lei! Stai zitto! Ho detto zitto, lo dico io. Eh, beh, ma io l'aiutavo. E dove stava andando? Ecco, io vado in via 25 aprile. Ah, bene, alla banca. E lei come lo so? Eh, lo so. Ah, lo sa? E vado a riscuotere? A riscuotere, a libretti. Sui libretti. La banca riscuotere. Milioni, 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 milioni. Eh, bene, bene, la banca è là. È là. Ma lì non c'è. Eh, appunto, è fallita. È fallita la banca. È fallita la banca. È fallita la banca. Coraggio, coraggio. No, no, su, su, su. È fallita la banca. Mi dia mille lire. È fallita la banca. Sì, ma mi deve dare mille lire. È fallita la banca. Non mi interessa, a me mi deve dare mille lire. È fallita la banca. Su, coraggio. È fallita la banca. Se è fallita o non fallita. È fallita la banca. Mi deve dare mille lire. Valghamarine! Voglio morire, fedoso, ma che mi sono venuto ? Un paese mi dai al ristorante, mi hai rovelato ! Fedoso, fedoso ! Voglio morire, voglio morire, voglio morire ! Io mi botto, mi botto sotto la masca ! Fermati ! Fermati ! Ma che risolveri ! Voglio morire, voglio morire ! Volevi cosa ne diceva ? E non si trova ! Il barone basta che mangia ! Il commentatore fa pazza e ha detto a luna e io ci ho calato la pasta ! Se ha detto a luna, luna deve essere ! Gli ordini non si discutono ! Eccolo le fetture 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 ! Fermi ! Fermi ! Fermi notte ! Che succede ? Fermi ! Non si mangia più ! Non si mangia più ! Non paga nessuno ! Non posso pagare ! Ma che sei ammazzito ? Che mangi ? Non mangiare ! Non si mangia più ! Che c'è ? Ma come si mangia più ? Non si mangia più ! Non si mangia più ! No ! Non si mangia più ! Franco ! Franco ! Franco ! Ma dico io ! Con tante banche che ci sono al mondo ! Proprio quella dove mi sceglie ! Che falliva ! Franco ! Ti prego ! Che me combinaste ! Franco ! Ti prego ! Oddio ! Oddio ! Che vuoi ? Che vuoi ? Che vuoi ? Che spaghette ? Che vuoi 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 ? Vuoi che ci faccia compagnia ? No ! No ! E non te lascio, vedo ! No ! Non te lascio ! Come vuoi ? Non sono per noi ! No ! Lo so io ! Perché so ! No ! Perché so ! Sono questo gran cornotazzo ! Rifonghi ! Raffino ! Raffino ! Edo ! Edo ! Eddo ! Edo ! Eddo ! Eddo ! Edo ! Non lo spinzi ! False ! Vai ! Vai ! Vi brucia ! Vi brucia ! Vi brucia ! Ma che ti brucia se è acqua fresca? Ma non parlo dell'acqua, mi brucia il cervello, mi schizza fuori, sto impazzendo Tu devi stare calmo e dire che eravamo sulla sogliola di diventare milionare Si, solta esce a spada Ma che fai, canti? Si, canto al canto Io dal notario non ci vado, no, non ci vado dal notario, non ci vado Ma papà, se ti è mandato a chiamare avrà pure un motivo Si, il motivo lo conosco io Vorrebbe che io andasse a mettere lì una firma per rinunciare all'eredità E va bene, se tu questa firma la devi mettere, la metti Io non la metto, non la metto, oggi non ci vado, non esco Esco solo se viene il maresciallo dei carabinieri per pigliarmi e portarmi in galera Io sono un uomo, ho un carattere, non esco Rinuncio, rinuncio, rinuncio Si sieda, si sieda e si sieda Eh no, io me ne vado, abbagno e me ne vado Eh signor Favaggio, se io fossi lei non rinuncerei ad eredità E invece io rinuncio E non mi strecce l'occhio Non mi strecce l'occhio, una vita che mi strecce l'occhio Ma guardi che il mio è un ticche nervoso, è solo un ticche nervoso Sì, fermo e vai Signor Favaggio, faccia come vuole, ma non rinunci all'eredità Fra i quadri che Sconzio le ha lasciato, c'è un caravaggio Un caravaggio Eh no Un caravaggio Eh no Un caravaggio Eh, un caravaggio Un caravaggio Ma che me ne frega del caravaggio, anche se mi avesse lasciato Un ciccio formaggio, un plico, un messaggio, la regola del vantaggio Barba, capella e massaggio, io abbagno, fermo e viaggio Uè 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 Non giochiamo Lombardo Lombardo Quello degli animali, il domatore Ah, l'ho vista intervenire No, sono l'antiquario Ah, l'antiquario Sì, l'antiquario Dunque, questa scoperta del quadro è veramente eccezionale Esiste, esiste una versione quasi identica del ragasso con frutta ai mercati generali No, 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 alla galleria, a Roma Certo, dunque, il quadro però di suo zio differisce da qualche piccolo particolare Ecco, per esempio, guardi, guardi Si sente male, si sente male Vuole che telefono a casa Noi, l'emozione tanto è bello Guardi l'urlo nero L'urlo nero L'aido Ah, che schifo Meraviglio Ma che soffa Qual'espressione del caravaggio Senta, io il quadro lo compro però Ha le condizioni battuite con suo zio Con il zio Che non era tanto dolce di sale Ah, lo so, io lo so Sì Ti ha detto Ma come parla? Mi alù Alù, alù, alù Senta, senta L'uzio si accontentava di settecento Settecento lero lo lascio marciere in soffitto No, guardi, ci dovrebbe aggiungere sei zeri Settecento mila lero lo lascio sempre in soffitto Ho detto sei zeri, non tre Sei zeri, sei zeri, un zero più, un zero in meno Insomma Un per zero, zero Quanto fa? Settecento milioni Settecento milioni Ma che fa, Favazza? Favazza che fa? Che fa, Favazza? Se ne va? Favazza che fa? Se ne va, signor Favazza Signor Favazza Signor Favazza Signor Favazza Signor Favazza Ragazzi, ho con la tutta, signor Favazza Ma insomma, mi fai lavorare E io devo apparecchiare, come la mettiamo? Sui quadri dello zio? I quadri dello zio? Certo, me li feci dare da tua sorella Perché voi li avevate messi in soffitta Perché nessuno li voleva Sì, va bene, ma tu che ci fai? Che ci faccio? Utilizzo le tele Una pennellata di bianco E poi tutti i naivi Se tocchi un tanto qua dentro Ti rompa la testa E io li penso perquisisco Barone, lei è una persona allecherata Gliela dita che commette un abuso di domicilio No, se c'è una che ha abusato sei tu Ed hai abusato della mia fiducia Gli avevo detto solamente di prendersi il campano con lo renale E invece lei si è portata via tutti i quadri E tutti i quadri Cos'è di sapere? Che cos'è il campano? Oh, mio Io cerco Aspetta! Credo che sia venuto il momento di andare via Signor Dina Disturbo? Ciao Arrivederci, barone No, perché se è disturbo posso pure andare via E perché non te ne vai? Sta zitta, tu non parlavo con te Io parlo quanto mi pare piace Diggielo tu Lui? Carletta, non fare il malandrino Non te preoccupare Al barone piacciono le cassate Mangi Mangi? Visto che così bece di lei Vava parte della quella Sobito Ah, sì? Carletto Chi c'è? Tu mangia di queste Mamma! Ormola la bambina Non ci mangio Non ci mangio Vai, muschina Non ci mangio Con te, Ernesto Mi screzzate Ah 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 no ok marina maniglia Cigliecine Anderine Ora si, se una bella cassata alla siciliana Cassata, cassata, cassata Tanti auguri a te Io ora sono una cassata alla siciliana Sì, sei contenta, sei felice Riti E adesso rido io Caragnone che cosa Sono rognone Vai giù, stava tu Sei un sacco di patate Vecita le tue preghiere E fai ridere Per te la fine Per te la fine Buongiorno! Finalmente sei Imin! Ricordate che sono sempre tuo fratello! Guai a Imin! No! No! Non vengilo mi possa stare! Franco! Facchialmente di salvaguarda la scelta! Al mio padre! Perché ci stai? Aaaaaaaaaaaaaa! Queste pappe? È pazza queste pappe! Legatela, legatela ! Fermata ! E da dove vieni ? Vieni, fermi la porta, tiralo in piedi ! La porpa no ! La porpa no ! La porpa no ! La porpa no ! Ladra ! Ladra dei quadri ! Quale ? Quale quadri ? Trevo ! Fermata ! I potrze checklist ! Fermi ! Fermi le Dieu ! Il sentit bien ! Nonørre ! E' permesso? E' permesso? Disgraziato, che hai fatto del caravaggio? Che hai fatto lo scaravaggio? Si, al bagarotto. Signori, scusate. Signori. Signori, permesso? Prego, scusi il casino. Siamo in famiglia, è confusionia. Ma non si sente. Madre! Che armonia! Ballo, ma no. Che ombre. Che tagli di luce. Che ombre. Che cromatismo, eh? Che reumatismo! Ma quella cromatica sono disfazzerata. Bello, bello. Che composizione. Un grande rivoluzionario della pittura. Quanta luce! Sembra quasi bianco. Vai. 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 Senta, se vogliamo fare questo affare, glielo do per 700 lire. Senta, amico, devi partire. Eh, parlavo francese? No, no, io devo partire. Ah, deve partire. Allora vogliamo andare dal notaio e firmare. Firmare dal notaio. Sei contento lei? Contento tutti. Però il caravaggio non c'è più. Come non c'è! Come non c'è! Eccolo! Questo? Sì. Il caravaggio. Eh già! Il caravaggio! Il caravaggio! E allora? Vogliamo andare dal notaio? Io le do i 700 milioni. Sì. E ti prendo il caravaggio. Sì. Sì. E allora, comando. La messa ogni giorno. Cantata dal coro dell'Antoniano. Le voci bianche rinfrescano l'anima della buonanima. Certo. Arrivederci. Andiamo. Franco, che c'è? C'è Mattolina? Franco, è tua sorella. Papà, la zia. Dai papà. Dai, dimentica. Dimentica. Alla tua sorella. Franco. Dai. Mattane. Franco. Vai. Vai a papà. Dai, Franco. E' la Franco. Che stia Franco. Viene di ombre. Grazie. Grazie. La pace, la pace. Franco. Brancuti. Tutti belli. Tutti. Io ti ho voluto sempre bene. Grazie. Nipotina mia. Dove è la nipotina? Vieni, Paola. Vieni. Bravi, bravi. Bravi. Bravi tutti. Bravi tutti. Bravi. 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 E' grande e staremo tutti uniti. Così la buon'anima dall'al di là sarò più contenta. Voi siete contenti che vi sposate? A Maddalena la faremo sposare col barone. Ma l'hai sposata col Salvatore? E allora faremo sposare Salvatore col barone. E tu ti sposti il notario. Siete contenti veramente? Sì, tutti quanti. Speriamo che sia contento questo gentile e rispettabile.